Adesso è il momento di chiedere la guarigione, chiediamolo con grande fede. Noi siamo una comunità di credenti, noi siamo una comunità terapeutica. Pregate gli uni per gli altri, per essere guarite. Dobbiamo credere a questa parola, dobbiamo credere che Gesù che è qui in mezzo a noi, ascoltando la nostra voce e unendosi alla nostra voce, implore dal Padre da cui procedo in bene, le guarigioni, le liberazioni, tutto ciò che questa comunità, questa Chiesa domanda al suo Signore. In verità vi dico quando due o tre riuniti nel mio nome chiederanno qualche cosa, se chiedono senza esitazione e sono d'accordo tra di loro, quello che hanno richiesto sarà concesso. Dobbiamo credere a questa parola di Dio, ed è in virtù della fede che si sposteranno anche le montagne. Il buon Dio concederà ancora liberazioni, miracoli e guarigioni. Chiediamo con fede, gridando a Dio, invocando lo Spirito perché si riai chiedere dentro di noi e poi guidando Abba Padre.